La Sardegna dei 10.000 nuraghi, simboli e miti del passato, è questo il titolo della mostra che per la prima volta porta a Roma la civiltà nuragica dell'isola. Un'esposizione di grande fascino che svela i segreti in una cultura antichissima attraverso opere e installazioni provenienti dai più importanti musei nazionali e civici della Sardegna. Fino al 16 marzo 2014 al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.